Oggi nella mia adorata Chiesa Cattolica Apostolica Romana si celebra la Santissima Trinità. Io faccio festa e ho preparato questa spiegazione nella quale io dimostro che l'unità e trinità di Dio è la verità assoluta che esiste nell'esistenza ed è probabile. Si può provare e qui la provo per iscritto in modo che si possono meditare con più attenzione gli argomenti. Oggi dunque è la celebrazione cattolica della Santissima Trinità. Voglio provarvi che è la verità fondamentale di ogni cosa. Al fondamento di tutto il relativo c'è una potenza assoluta. È veramente la potenza di n elevato a 0. Una volta che assoluto significa indeterminato, come lo è la potenza n elevata a 0. In verità sia la base n che esprime ogni possibile numero, sia l'indice 0 che esprime l'assenza di ogni numero, sono entrambi numericamente valori indeterminati. Perciò la potenza n elevata a 0 è uguale a 1 e 1 è un numero assoluto. Bene, poiché tutti i numeri n sono esponenti della base 10, essendo n uguale a 10 elevato a n nel logaritmo di 10 elevato n, abbiamo che esso è uguale a 10 elevato a 1, che è uguale a 10 elevato a 1. Pertanto 10 uguale 10 elevato a 1. Spostando dall'altra parte il termine 10, lasciamo il valore 1 e il valore che va dall'altra parte dell'uguaglianza va in divisione, ossia si moltiplica per il valore inverso. Quindi abbiamo che 1 uguale 10 elevato a 1 per 10 elevato a meno 1. Sicché 10 elevato a 0 uguale 10 elevato a più 1 per 10 elevato a meno 1 è l'unità e trinità. È il fondamento assoluto chiamato Dio onnipotente. 10 elevato a 0, che è dunque uguale a 10 moltiplicato per il suo inverso 10 elevato a meno 1, è ciò che è in potenza da un lato, che è uguale a ciò che è in atto dall'altro lato. In potenza è lo Spirito Santo. In atto sono il padre 10 e il figlio decimo. L'azione 10 del padre nella Bibbia è espressa dai dieci comandamenti. L'azione di un decimo del figlio nella Bibbia è data dalle decime che sono la parte per Dio. 10 elevato a 0, 10 elevato a 1 e 10 elevato a meno 1 sono tre valori assoluti in una unica verità. Assoluto in potenza è la forza dei legami personali e l'amor. Due assoluti in atto sono due persone nel loro veritiero e reciproco amore. In conclusione, l'unità di Dio esiste come verità assoluta. La trinità di Dio è una necessità relativa indotta dall'impossibilità di rappresentare l'assoluto nella relativa determinazione, che è l'opposto di quanto è assoluto. Pertanto necessitiamo di tre rappresentazioni, una esistente in potenza di Spirito e due in atto relativo a noi, che esseri umani necessitiamo di una rappresentazione umana. Poiché ogni uomo è un numero nel suo talento, sarebbe strano, molto strano, se mancassero proprio e realmente il 10, l'1 e il 10. Il loro oracolo sta in Genesi 38, attraverso la rappresentazione data da due giamelli, aventi lo stesso DNA e generati da un vero padre, in connubio, involontario e forzato da sua nuora, per dare discendenza ai suoi due figli morti, Er e Onan. I due gemelli nasceranno dunque come sarebbe stato per Gesù, da un connubio di Maria Santissima col vero padre di tutti i padri e figli del mondo. Gesù, in Genesi 38, è trentottesimo in Genesi, a partire dal padre vero di Er e Onan. La nascita è strana, esce prima una mano, identificata da un fiocco rosso, essa rientra nell'usero e nasce prima il secondo, senza fiocco, in rappresentanza del figlio Gesù dato dal suo antenato. Chi volle segnalarsi primo nel padre, stesso DNA del figlio, nacque secondo. Ora, Genesi 38 è oracolo di sì, è Gen 38, Gennaio 38. Er e Onan sono oracolo di E Roman. Quello dato a cinque dita fu il saluto romano per la chiesa cattolica apostolica romana. Ma fu di più. Chi la provvidenza ha voluto nato il gennaio 38 di Gen 38, si chiama Romano Antonio Anna Paolo Torquato Amodeo. Cinque dita nei suoi cinque nomi e la mano nel cognome di chi è in atto come dieci e uno. In romano che è 66, sommatoria di 11 nel valore di ogni lettera del nome romano per la posizione che occupa nell'alfabeto italiano. Ebbene, i valori di posizione di tutte le lettere del suo intero nome nell'alfabeto italiano sono esattamente le 381 di 38 e 1, gennaio in Genesi 38. Quella mano indicò dunque tutto il suo nome. Anche Er e Onan danno il codice fiscale esatto RNN di Romano Antonio Anna, mentre quello del cognome MDA sembra il codice fiscale della madonna. Egli è dunque la controfigura di padre dieci e spirito santo uno, ma è ben lungi da essere stato riconosciuto. Se volete risolvere questa situazione con più attenzione potete cliccare qui e leggervi o ascoltare tutto il video riguardante Genesi 38.